Mezzanotte 44, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale che cominciamo dalla Francia. I primi risultati che arrivano dal primo turno delle elezioni legislative danno il partito di Marine Le Pen e Bardellà al 34%, mai così tanto in alto. Ma c'è tutto ancora da capire, da decidere per quello che accadrà al secondo turno. Macron, il cui partito ha invitato la formazione delle sinistre, un nuovo fronte popolare che è andato altrettanto bene in questa elezione, a fare fronte comune, a creare un'alleanza democratica e repubblicana con accordi di desistenza. Significa che nei collegi chi è arrivato terzo si deve ritirare per lasciare che i voti vadano tutti sull'altro candidato. Nel frattempo, già da stasera, si sa che 37 deputati del Rassemblement National sono stati eletti, mentre una ventina, già da questa sera dal primo turno, li ha eletti il nuovo fronte popolare. Ma vediamo tutto dall'inviata Adriana Bellini. È una Francia spaccata e disorientata quella che esce dal primo turno delle elezioni legislative con un'affluenza record attorno al 65% la più alta da 40 anni. Come previsto, il maggior numero di voti, circa il 33%, è andato all'estrema destra del Rassemblement National e ai suoi alleati. La vittoria è possibile, sarà un primo ministro della coabitazione, rispettoso ma intransigente, ha detto Jordan Bardella, che ha attaccato duramente la sinistra radicale, arrivata insieme all'alleanza con i socialisti verdi e socialdemocratici in seconda posizione con il 28% dei voti, che, dice, sarebbe la rovina e una minaccia esistenziale per la Francia. Decisamente sconfitti invece i centristi di Macron, che perdono decine di seggi in Parlamento, ma mantengono un 22% che, se sommato al 28% del nuovo fronte popolare, raggiunge un 50% dei consensi. È questa speranza che deve avere convinto i due campi di centro e centrosinistra a dichiarare immediatamente la necessità di creare un fronte comune contro il possibile avvento dell'estrema destra. Neanche uno dei nostri voti deve andare a Bardella e Le Pen, ha detto il premier uscente Gabriele Attal, annunciando il ritiro in caso di triangolari del proprio candidato, non in condizione di vincere, per rafforzare la sinistra moderata comunque allineata ai valori repubblicani. L'indicazione dall'Eliseo è infatti di studiare ogni singolo collegio elettorale per trovare alleanze caso per caso, incluso con candidati della France Insoumise. Una linea sposata anche dallo stesso segretario della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, pronto a ritirarsi laddove necessario per impedire alla Rassemblement nazionale di ottenere la maggioranza assoluta. Una riunione strategica è prevista domani mattina all'Eliseo. Elezioni che si fanno sentire ovviamente anche a Bruxelles, dove si continua a lavorare, a tessere la tela per portare alla riconferma di Ursula von der Leyen all'Europarlamento. Si voterà il 18 tra i suoi, c'è ovviamente Tajani che fa parte del Partito Popolare per quello che riguarda la famiglia europea, Tajani che è un vice premier, l'altro è Salvini che invece questa sera si è congratulato con Marine Le Pen, sua vecchia amica. Il primo a complimentarsi con Marine Le Pen e l'amico di lunga data Matteo Salvini, il vice premier segretario della Lega riconosce lo straordinario risultato ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia dal Rassemblement nazionale e torna ad attaccare il presidente Macron. Si comporta come una von der Leyen qualsiasi, scrive Salvini su Twitter, e cerca in tutti i modi di opporsi ad un cambiamento espresso da milioni di francesi a Parigi come a Bruxelles. Al leader del carroccio, replica dal PD Deborah Serracchiani, Le Pen non ha ancora la maggioranza assoluta, l'opposizione è forte, lo scenario mobile. Saranno cruciali i ballottaggi. Salvini, suggerisce l'esponente Dem, aspetti a far festa. Nel centrodestra di governo gli alleati sono compatti in patria, ma sempre più divisi nel contesto europeo. Da una parte Forza Italia con il vice premier Antonio Tajani, che lavora per rafforzare la maggioranza Ursula, versione 2.0, senza però l'entrata dei Verdi per von der Leyen. Dall'altra la Lega, che plaude al nuovo gruppo europeo dei Patrioti, lanciato dal premier ungherese Viktor Orban, con i partiti di estrema destra di Austria e Repubblica Ceca. Nel mezzo la premier Giorgia Meloni, che dopo il successo dell'8 e 9 giugno scorsi e l'assenzione sul bis di von der Leyen punta a chiudere la partita con un incarico di peso per l'Italia nella prossima commissione. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Nonostante le pressioni da parte di alcuni elettori e della stampa democratica, le perplessità all'interno anche dello stesso partito, Joe Biden resiste e lo esorta a resistere l'intera famiglia, che oggi era riunita a Camp David. Anzi, non solo gli è stato chiesto di insistere e andare avanti, ma c'è una parte del suo entourage che ha attaccato coloro che hanno preparato, a loro dire male, il presidente al dibattito contro Trump. La famiglia Biden riunita a Camp David a tre giorni dalla disfatta del presidente nel duello televisivo con Donald Trump. Un appuntamento già stabilito da tempo e annunciato una settimana fa hanno ribadito più volte dalla Casa Bianca per placare le suggestioni che la successione degli eventi evoca, ma che al momento non appaiono suffragate dai fatti. Che invece parlano di una Joe Biden, colei sulle cui capacità di persuasione puntano coloro che vorrebbero un passo indietro da parte dell'inquilino della Casa Bianca nella corsa alla rielezione, che difende a spada tratta suo marito, definendolo non solo la persona più giusta per questo lavoro, ma l'unica persona per questo lavoro. Nessuna pressione dalla famiglia per una rinuncia, chiesta ormai a gran voce da una parte della stampa progressista, anzi, compatto anche il sostegno del Partito Democratico e dei suoi big, da Barack Obama a Bill Clinton passando per il governatore della California Newsom, considerato uno dei papabili per prendere il testimone dal presidente. E' proprio la mancanza di alternative in grado di sostenere e vincere il confronto con Trump è uno dei fattori che rende difficile ipotizzare un cambio in corsa. E poi c'è lo scenario che un ritiro di Biden creerebbe, evocato da un memo della sua campagna diffuso dai media statunitensi. Settimane di caos, torte in faccia, candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, mentre Trump avrebbe il tempo per parlare in contrastato agli elettori. La questione climatica di cui discutono anche Biden e Trump, Trump è un negazionista, mentre Biden prosegue sulle politiche cosiddette green, si fa sentire sempre di più con gli eventi estremi, e lo abbiamo visto ieri e oggi in Valle d'Aosta e Piemonte. Cogna è isolata, violente, ci sono state esondazioni, cadute di acqua e fango, valanghe di acqua e fango in Piemonte. Nel cantone Ticino ci sono stati tre morti, c'è ancora un disperso. Torrenti esondati, frane, paesi isolati, centinaia di persone evacuate. Il maltempo è tornato a colpire, stavolta nell'arco nord-ovest, dal Piemonte alla Val d'Aosta fino al confine con la Svizzera. Cogna è rimasta isolata per ore, senza luce e senza acqua, dopo che l'unica strada di collegamento col paese, la regionale 47, è stata danneggiata dall'alluvione. Poi la situazione è piano piano rientrata, ma per tornare a casa sono stati utilizzati gli elicotteri. Centinaia gli sfollati, ospitati in un campo base di Aymaville, che ha fornito assistenza e supporto logistico e psicologico. Gran parte del paese è senza acqua, l'acquedotto è stato portato via dal torrente. Stiamo pensando a una riparazione provvisore da realizzare appena possibile per riuscire a riempire la vasca di carico, ha detto il sindaco di Cogne, Franco Allera. Nessun danno alle abitazioni, mentre sono state inghiottite dall'acqua e dal fango a auto e aree di campeggio. Senza feriti, decine gli alberi caduti nella valle di Cogne e della Val Tournance. La furia dell'acqua ha messo in ginocchio anche Cervinia, magazzini allagati, fango e danni per milioni di euro. Altre operazioni di evacuazione hanno riguardato 120 persone bloccate nella zona dell'Alpeveglia. Mezzanotte 58, ci fermiamo domattina alle 7. Torno all'informazione, arrivederci, grazie, buonanotte. Grazie. 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 Grazie.